Allora, volevo confrontare lo... Questo ha un po' di anni, quindi non è nuovo, eh? Comunque, della... Beh, in particolare ha questa entrata del fiato, insomma, abbastanza in griguità e larga. Più adatta principianti. Questo la trovo un po' meglio, però. Vediamo un po'. E' un po' meglio. E' un po' meglio questo, almeno a me. Allora. Allora, a me esteticamente piace più questo perché ha questa cosa un po' più raffinata di questo. E' un po' più raffinata di questo. Ok? E' un po' più raffinata di questo. Questo è un po' più flautato come suono, insomma, spiegare. Questo è più centrato. Ok? Questo lo sto leggendo a prima vista. E' un po' più raffinata di questo. Questo è un po' più raffinata di questo. Questo sarebbe veramente per... Team Whistle, però. E' un po' più raffinata di questo. qui c'era un po' più raffinata di questo. Qui c'era un Do Di Esis, tu lo prenderlo così. Vabbè, questo è un po' più... facciamo una cosa un po' più andante. e anche e ho pensato anche di mettere queste non si può mettere qua però quest'altra si può mettere su e 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 no veramente sembra strano questo è quello che ho avuto nuovo ma quasi quasi previsco il merc mo non so se non è in legno perchè l'ho scambiati e e questo che è più e 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 vabbè e questa è la differenza questo io ho messo la e in inglese thumb rest poggia dito forse questo secondo me questo è più comodo per il mio titolo e 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 vediamo 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 allora allora flauto plus uno plus si chiama questo mentre tre uno plus questo si chiama fit ok ok e e e no c'è pure uno che si chiama prima però adesso una una curiosità scusate io ce l'ho visto prima tutto in plastica e se non è curioso di vedere se entra no no entra però entra sulla sulla la 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 l l l l Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, vabbè, penso non è tanto, insomma, 45 euro mi pare. E' una sua. Ecco questo. Vale. Come cosa? Volevo sperimentare con questo. E' più bello a sentire, a vedersi, però... Guardate, se devo suonare dal vivo, per strada... ...Busking. Questo è più adatto. ... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti